Ogni tanto portarlo fa bene perché è un carro italiano ed è un carro che mi piace molto, al netto che sia un gommato, sto parlando del Centauro MGS, è un carro che abbiamo visto più volte sul canale, so che vi piace, so che mi piace, quindi ci accontentiamo a vicenda. Mi raccomando un commento e un mi piace per aiutare l'algoritmo di Youtube, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella se volete provare il gioco completamente gratuito, link in descrizione. Prima di andare a vedere le clip che ho preparato dobbiamo dire giusto due cose su questo carro, velocità massima su carta 110, cannone da 120, 33 munizioni, io utilizzerò personalmente, utilizzerò le CL31-43, davvero devastanti sotto ogni punto di vista. Lancia granate fumogene per 8, non sono tantissime quindi bisognerà utilizzarle con, diciamo, quando servono, però ripeto il numero è molto piccolo. Brandeggio verticale, meno 6,16, tempo di ricarica base, così appena lo comprate, 5.8 secondi, avete capito molto bene. Poi, corazzatura, scafo e torretta, cercate di non farvi colpire. Massa 25 tonnellate e poi tutti i vari dati. Ragazzi, siamo pronti, le caratteristiche del carro. Siamo pronti, vediamo le clip del Centauro MGS. Uno spettacolo, veramente. Stanno catturando Charlie, chiamata di artiglieria. Cosa potrà mai andare storto? Dobbiamo semplicemente sparare. Qualcuno potrebbe pensare. Effettivamente è così, però... Ok, vai, piano. Piano. L'ho visto. Morto? Eccolo, 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 eccolo. Ma dai! Ma stiamo scherzando! No, dai, ragazzi! Ma stavano... Ma no... Non è possibile! Non facciamo ste cose tipo che i carri scompaiono da soli e i carri non esplodono dietro... Sparati dietro al coso. Alla torretta. Ce n'è un altro. Dove cavolo è andato? Ce ne stava uno. Eccolo. No. Dove? Che cosa volevi fare? Cioè, no. La risposta è no. La risposta è semplicemente no. Che provi ad intrufolarti dietro, fa il giro, destra, ma non dar fastidio. Alla... Eh, ti ho visto dopo. Ho sbagliato incredibilmente. Non ci voglio credere. No, eh, ragazzi. Cosa... Cioè... Wow! Cosa sono stato in grado di sbagliare? Incredibile. Vuoi vedere che ho tiro? Leclerc, guarda. La mia... Guarda... Allora, formuliamo una parola di senso compiuto. Una frase di senso compiuto. Sono veramente felice quando distruggo leclerc. Lo posso dire? Lo posso gridare? Sono felice. Devo passare di qua? Ce la faccio? Il nostro gommato. Gommato. Uh! Questo è stato bella. È stato bella perché il T-72 è pericoloso. Very good. Non so se era solo lui, eh. A stare nel cap. Ma sicuramente no. Ce ne saranno almeno altri due e tre. Uno è sempre lì, comunque. Eh? Eh? Eh, 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 eh. Ok, non rischio più. La posizione è compromessa. Colpo. La posizione è compromessa. Colpo. Ovviamente... La kill, ragazzi, incredibile. Non arriva mai, non arriva. Non arriva mai. Non arriva mai. Non è fattibile sta cosa. Vi faccio vedere questa parte di video perché qualcuno magari pensa fai vedere due kill in una clip vuol dire che sei morto subito o non hai fatto nient'altro. Come ho detto in un altro video, spesso e volentieri, anche non morendo, la partita viene vinta. Semplicemente con due kill. Quindi smettiamola con questa assurdità. Poi, anche se fosse vero, voglio dire, non ci sarebbe nessun problema. Però cerchiamo anche di pensare che magari non è esattamente come qualcuno pensa. Ci vogliamo provare? Ci provo. Lo faccio per la scienza. Non lo so se riesco. Ah, non vengo distrutto qua. Buono. Quindi era solo una falsità che il mio carro sarebbe stato distrutto perché rientro praticamente subito in zona accettabile della mappa. Eccolo, finalmente uno. Finalmente, guarda. Eh, ho fatto tutta la mappa per una sola kill però. Ma che è sta poverata? Cioè, io sono partito dallo spawn. Ci fate un attimo fare un'altra kill di rapina? L'ultima, dai. L'ultima kill di rapina. C'è più nulla? Eccolo. Non mi vede? Fantastico. Dai, poverino. Era cerchiato. Comunque non era facile. Però è stato divertente. È stato molto divertente. Stavo aspettando. Ecco perché sparavo la mitragliatrice. Perché non potevo colpirlo ancora. Tra l'altro questa cosa cambiamola. Perché nel momento in cui lui spara deve perdere l'invulnerabilità. Dai, solo artigliere. Solo kill. Buona. Già mi piace di più. Aspetta, aspetta, aspetta. Perché qua la situazione non è per niente buona. Sta cacchio di... Eh, facevi prima a darmi la kill. Buona. T-72. Stiva munizione esplosa. Guarda. Sono veramente felice quando distruggo il T-72. Ma perché parlo? Veloce? Eh! Cosa volevi fare? Cosa volevi fare? A stare lì a camperare? Eh? A sparare con il tuo carro premium? E invece no. Solo che ho finito gli estintori. Col prossimo incendio veniamo distrutti. Là sono tutti morti questi carri. Tranne quello che ancora si stava muovendo. Aveva il radar lì che stava girando. Quindi è vivo per forza. Quello è morto. Eccolo! Eccolo! Bravo! Bravo! Tu sì che farai strada. Il carro potrebbe essere ancora più devastante. Basterebbe mettere la qualifica all'equipaggio. Io non l'ho fatto perché un milione di leoni praticamente non sono mai sul mio conto. Il carro è fantastico. Se potete sbloccarlo, sbloccatelo. Divertente. Efficace. Devastante. Italiano. Cosa volete di più? L'unica nota negativa per quanto mi riguarda è che essendo un gommato anche il minimo spostamento dovrà comunque essere collegato a un avanzamento oppure a una retromarcia. Perché non è che si sposta da solo. Ecco il vantaggio di avere anche i cingoli. Alcune mappe vi metteranno magari anche in difficoltà. Mappe innevate. Mappe sabbiose. Però alla fine ci sono sempre i famosi sentieri. Ne abbiamo parlato più volte. Anche i cannoni di un calibro relativamente piccolo. Un 23 possono distruggervi. Quindi fate attenzione all'antiere nemica. E fate attenzione qualora sia possibile all'attacco che viene dall'alto. Anche se quello sinceramente è davvero difficile da evitare. Perché se un caccio ti prende di mira, ti sgancia la bomba, ti mitraglia sopra la testa. Capirete bene che insomma non potete di certo smaterializzarvi. Ragazzi video terminato. Io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni. E noi ci vediamo con un prossimo gameplay. Ciao! 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 Ciao!